Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come da titolo, parliamo della regola Sanni 16. Questa regola arriva direttamente dal mondo analogico della fotografia. Quando gli esposimetri moderni che calcolano in un attimo la quantità di luce necessaria per fotografare una scena ancora non esistevano. Questa regola in particolare veniva e viene applicata in quelle situazioni nelle quali ci troviamo a fotografare un soggetto in pieno giorno, da cui il nome è Sanni. E perché 16? Perché la regola impone di mantenere sempre il valore del diaframma su F16. A variare saranno i valori del tempo di scatto e degli ISO. Ma in che modo? Per ottenere una corretta esposizione, come detto, bisogna impostare il diaframma su F16. Mentre il tempo di scatto deve essere reciproco al valore degli ISO. Facciamo un esempio pratico. Qualora ci trovassimo all'esterno, in pieno giorno, con la presenza del sole non coperto da nuvole e volessimo tenere una corretta esposizione, per prima cosa impostiamo il diaframma appunto su F16. Dopodiché valutiamo che valore ISO utilizzare. Naturalmente utilizzeremo un valore ISO basso, come ad esempio ISO 100. Dal momento che essendoci già tanta luce non dobbiamo aumentare la sensibilità del sensore, rischiando così di avere anche più grana, più rumore digitale nella fotografia. Per cui utilizzando un valore ISO di 100 andremo a utilizzare come tempo di scatto il valore più vicino al valore degli ISO impostato, che potrebbe essere un centesimo di secondo. Questa regola però si può estendere anche a diverse condizioni di luce. Infatti al variare delle condizioni di luce possiamo modificare l'apertura del diaframma, tenendo sempre però costanti sia il tempo di scatto che gli ISO. Per cui in una situazione nella quale ci troviamo a fotografare un paesaggio magari con della neve o con della sabbia che rafforzano molto la luce presente, utilizzeremo F22. Con sole pieno e ombre nette F16. Con un sole leggermente coperto e quindi con ombre più morbide F11. Invece con un cielo coperto e con ombre poco visibili F8. Con un cielo molto coperto e nessuna ombra invece utilizzeremo F5.6. Mentre invece in zone completamente all'ombra oppure in situazioni di alba e tramonto utilizzeremo F4. Va precisato poi che questa regola permette di ottenere una corretta composizione all'interno di una scena, non lasciando grande spazio comunque alla creatività oppure al proprio gusto personale. Quindi se volessimo ottenere un risultato particolare è chiaro che dovremmo andare a modificare i singoli valori. Bene ragazzi questo video si conclude qua, spero che sia stato interessante. Come sempre se avete dubbi o domande lasciatemi un commento qua sotto. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video e mi raccomando. Ciao a tutti!